Fino al 16 giugno, nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, è esposta la mostra Sindone ed Intorni, un percorso per immagini, 11 pannelli fotografici che illustrano anche il percorso storico compiuto dal Sacrolino ed una cronologia delle ostensioni. L'esposizione fa parte di un progetto realizzato dall'Associazione Univoca, composta da 10 associazioni di volontariato culturale, con il patrocinio del Comitato per l'Ostensione della Sindone 2015. La realizzazione di questa mostra ha come obiettivo quello di stimolare la curiosità dei visitatori, dei pellegrini, eccetera, ad andare sul sito internet di Univoca, sul quale compariranno nel tempo tutte le immagini delle Sindone che ci sono sparse sul territorio, comprensive anche delle pubblicazioni, quindi bibliografia, articoli, comparsi sui giornali, studi e ricerche che studiosi faranno sempre.